Ehi, conviene no? Quest'uomo è Andrei Basgaroff, è un agente russo e noi crediamo che lui abbia intercettato i documenti. Posso parlare in inglese? Siete sempre così burloni voi detective? Ma forse posso darvi un indizio, forse è questa che stavate cercando, l'arma del delitto. Butta la terra, butta la terra cazzo! Poggio la terra, ti ammazzo! Se pensi che è solo un sogno, potrebbe essere vero. E tutto ciò che vedete non è vero. Just keep running. It is time to play. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ciao! 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 Ciao!